In questa serata benefica, che è la penultima del nostro rock per l'Emilia, il Tropico del Blasco Allora, facciamo un'intervista un po' particolare con loro, perché sono una band che non vuole molto, non è molto diversamente da me, non gli piace stare davanti alle telecamere, è la prima volta in assoluto che stanno davanti alle telecamere Quindi, facciamo una cosa un po' particolare, allora, nome? Alessandro Ghigliotti Fabio, Fabio Marco Castagnola Allora, lo strumento, cosa suonate voi? Tastiere Io suono il basso Io suono la chitarra Ok ragazzi, adesso, detto questo, volevo rendervi partecipe Sapete benissimo già cosa state facendo, perché scopo è questa manifestazione Insomma, volevo che dicevate due parole al riguardo Chi è che vuol parlare? Io credo che Fabio, forse sia quello più adatto No, io intanto grazie di averci invitato a questa manifestazione Io ho già partecipato da Erasmo come fonico, quindi mi sono già battuto per la buona causa rock per l'Emilia Niente che dire, passo la parola a qualcuno che non ha ancora partecipato Quindi, Alessandro, non ho ancora parlato Alessandro Allora, intanto sono onorato perché fare eventi di questo genere fa sempre piacere Perché comunque ce n'è bisogno Perché dal punto di vista di artista, diciamo È il modo più bello per aiutare Perché comunque è piacevole per noi e in più per la causa Quindi fa ancora molto più piacere suonare E che altro dire È bello e giusto essere qui Stasera, parliamo con Marco Stasera farete qualcosa di solito Insomma, non farete il classico concerto rock Cosa ci proponete? Stasera faremo un acustico Quindi saremo due chitarre, basso tastiera Manca la batteria L'importante è che, appunto, anche io volevo dire che sono molto onorato a partecipare a questo evento Visto che la musica comunque è qualcosa che unisce È il miglior modo per divertirsi e unire la gente, appunto, queste serate che sono le migliori che si possono organizzare E da questo salutiamo il Tropico del Blasco Voi, io sono Andrea Grazie a tutti, ciao a tutti Ciao, ciao